Vi dà il comando, faccio un appello a tutti i candidati che ovviamente stanno, adesso si sta descando questo grande entusiasmo e questa frenesia, cerchiamo di gestire bene i manifesti e quindi noi cerchiamo di rimbrattare tantissimo la città e di organizzarci bene e non ovviamente sovrapponendoci fra di noi. Grazie. Grazie.